Ciao a tutti ragazzi, l'altro giorno sono andato all'allovare Marlena e ho comprato la la carta biadesiva, la plastica biadesiva. Oggi invece sono andato a comprare questo tagliacavi. Allora il commesso mi ha detto che taglia i cavi in acciaio, vogliamo vedere se taglia i cavi le guaine ragazzi? Vediamo e proviamo se la taglia questa guaina oppure no. Questa costa 7,38 euro, invece quella che vendono da Declaton costa all'incirca 15 euro, quindi la metà. Vediamo, avevo una mano ragazzi, vediamo se ci riesco. Ok, facciamo un taglio, proviamo. Ok, il taglio l'ha fatto, dove è andato a finire? E questo? Vediamo se è andato bene. Che ho fatto un taglionetto ragazzi. Però questa è facile perché è quella del freno, voglio dire con quella che ho il cambio perché questa qua, come vedete, ha il cavo all'interno che ha spirale, invece quella del cambio sono fili ognuno per conto suo, quindi quella è un po' più difficile a tagliare. Ora io sul momento non ce l'ho perché la devo comprare per fare il cambio di questo manubrio. Quando la comprerò, proverò anche su quella. Vi piace ragazzi? Allora come idea, come soluzione? 7,38 euro. Aspettate, lo metto a fuoco. Se vi piace o non vi piace mettete un like e scrivetelo sui commenti, ok? E mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratis. Ciao e al prossimo video!